Una bellissima piacenza per 3 set, 5 match point annullati, qualche decisione contestata No, no, non è stata contestata, dopo 3 set le partite finiscono Questa era finita, però l'abbiamo continuata Speriamo che i set che abbiamo fatto dopo ci siano utili per i playoff Una bellissima prestazione a muro, 18 a 6, uno dei tanti fondamentali interpretati bene Sì, siamo molto forti in questo fondamentale Ci sentiamo veramente pronti, è chiaro che dobbiamo migliorare un pochettino Nella fase di cambio palla, quando la squadra avversaria tira la battuta senza avere niente da perdere In questa fase qui ci siamo un po' arenati e poi abbiamo fatto fatica contro una Verona che però è cresciuta Peccato perché quell'operazione sorpasso, sesto posto, si stava materializzando Sì, non è che giocare contro Modena a macerato a Perugia ci sia qualche differenza Insomma, noi abbiamo interpretato la partita al meglio di quello che potevamo Come ha fatto Verona e ne ha scatturito questo tipo di risultato Grazie Grazie